Premio Gonfalone, Nona del Convegno, Anziani a confronto sul Miglio, 12 al Via, non corre il numero 4, Tuono Caffa, Sanzone, Scò, Dario Battistini, Singalleluia, Roberto Vecchione, Ruggito GSM, Giuseppe Pistone, Scintilla Caff, Giampaolo Minucci, Sciva Fermi, Lucio Becchetti, Simmiedo, Davide Di Stefano in seconda, Smoc di Piaggia, Gaetano Di Nardo, Ruben Senne, Francesco Pettinari, One Love Antonio Di Nardo, Tanai, Pietro Gubellini, Tyler Di Pippo, Alessandro Rocciadoro, Orlande Chiari, Antonio Di Nardo, in proda, abbandona lo schieramento Orlande Chiari che se la prende con molta calma, parte piano Sanzone, Scò, c'è battaglia subito per il comando, fra Ruggito GSM, Singalleluia che rientra, Simmiedo che parte molto forte all'esterno, Singalleluia in vantaggio, sbaglia Ruggito GSM, Simmiedo ripiega nella scia di Singalleluia, terza posizione per Ruben Senne davanti a Tanai, a largo viaggia Scintilla Cuff, si porta presso Tyler Di Pippo che poi ripiega Quinton Corda, 13,5 primi 200 metri, il quarto iniziale per Singalleluia in 28,8, lo segue Simmiedo davanti a Ruben Senne, sposta Tanai in anticipo su Scintilla Cuff offrendole la schiena, poi quarto in corda Tyler Di Pippo, a largo One Love, Tanai va ad incalzare Singalleluia, dopo 600 in 44,3, Singalleluia alla corda, Tanai che incalza, poi Simmiedo, Scintilla a largo, ancora Ruben Senne. Vediamo il passaggio agli 800 in 59,3, Tanai si è scavata a un posto nella scia di Singalleluia, Simmiedo che è rimasto un attimo lì sui suoi passi, a largo viaggia Scintilla, si porta presso Tyler Di Pippo, sposta Ruben Senne costringendo in terza Tyler Di Pippo, intanto Scintilla va all'attacco di Singalleluia. In bocco della curva conclusiva con Singalleluia al comando, Scintilla che ha un problema, deve un attimino rallentare, prova in terza Tyler Di Pippo ma sbaglia, c'è Tanai che prova a uscire dalla scia di Singalleluia che allunga ancora, poi Simmiedo che si è riorganizzato, Scintilla all'esterno che si è ripresa, mancano 200 al palo, Singalleluia in vantaggio, Tanai che insegue, a centro pista lo scatto di Ruben Senne che va su Simmiedo, Scintilla ha dato il meglio, Orland Chiari che segue i primi, Singalleluia se ne va per proprio conto a vincere, il poker di Roberto Vecchione, Tanai al secondo posto, a precedere Rubens N, 1,57,6, la media intorno all'1,13 e mezzo, forse anche un filo meno, vince, sì perché sono partiti veramente forti quindi il parzialino abbassa la media, e Singalleluia e Roberto Vecchione, Holger Ehlert, un team super vincente, super vincente in questa giornata, alla quota 1,89, i colori sono del signor Walter Larsen. Grazie.